Alla fine la chiamata è arrivata, come in corso sicuramente sperava da tempo. Luigi Melilli, ex presente al Consiglio Comune di Vittoria negli anni 90, è consigliere per due legislature e il terzo candidato vittoriese alle politiche del 4 marzo. Dopo quell'esperienza in una lista civica si era allontanato dalla politica, per poi rientrarci ultimamente ammaliato dal progetto di Salvini. La mia segreteria mi aveva richiesto tutta la documentazione per la candidatura. E' stata evidentemente valutata lì all'interno dalla segreteria, dall'onorevole Atteguile, che è il mio segretario regionale, e ho avuto la soddisfazione così avanti ieri di essere stato chiamato e almeno ho avuto la comunicazione che ero stato inserito in lista nel proporzionale. Ci sono forme di lotte, in questi giorni davanti al mercato ortofruttico gli agricoltori sono tornati a protestare perché evidentemente con la melanzana a 30 centesimi, il ciliegino che non si può vendere, siamo nel mese di gennaio e se lei va al mercato c'è parecchio in venduto. Ma degli altri candidati che vedo in giro, in questo momento non li abbiamo mai visti, non ne parlano mai di queste situazioni, della crisi che investe la fascia trasformata. E devo manifestare purtroppo che su queste tematiche l'unico che ne parla sono io il sottoscritto, forse perché sono anche un addetto ai lavori, eppure è una fetta di territorio che occupa qualcosa come 200.000 occupati. Evidentemente le politiche invece che sta portando avanti Matteo Salvini, che è il progetto politico che sta portando avanti, che guarda gli interessi soprattutto degli italiani e che deve innanzitutto mettere un freno all'entrata di questo prodotto che viene dal Marocco, che viene dall'Egitto. Grazie a tutti.